E' cominciato ufficialmente oggi pomeriggio dopo tante polemiche con il consigliere del PDL Costa la campagna di comunicazione e sensibilizzazione guidata dal comune di Ravenna e dall'assessorato alle pari opportunità per far sì che anche gli uomini possano aiutare le donne nelle faccende di casa. La risposta mi sembra imprevedibilmente di successo perché c'è un grande fermento di richiesta, molte persone, uomini lo conoscevano, si sono presentati qui anche alle 4 per avere il materiale, alcuni hanno chiamato in ufficio, in ogni caso quello che comunque compare è una grande attitudine degli uomini già a fare. Se li sentiamo sono tutti molto attivi, molto disponibili, quindi pubblicamente si presentano bene, quindi forse quello che non dobbiamo fare che andare un po' a indagare nel privato forse ci darebbe altre sorprese. Io comunque ho sempre un po' parto dall'opinione che quello che ciò è privato è privato nell'ambito di una relazione fra le persone ma il comportamento ha sempre un risvolto anche pubblico, sociale, di costume e quindi è interessante sempre capire quello che accade nel privato perché probabilmente se ci sono degli orientamenti, delle tendenze non positive dal punto di vista del rispetto fra le persone credo che noi dobbiamo anticipare questi fenomeni per in un qualche modo aprirci ad una mentalità che sia comunque sempre rispettosa e cooperativa. La polemica è stata utile? Il costo di un'iniziativa è zero o quasi zero, ovvero solo alla stampa dei manifesti. Lei fa le pulizie a casa? Alcune però. Tipo in quale si cimenta? Cucino, lavastoviglie, basta. Le tue faccende preferite? Far da mangiare e stirare. Siete d'accordo con questa campagna di comunicazione del comune? Assolutamente sì. Sì sì. Ha detto la verità? Sì no, ha detto la verità assolutamente. Quindi non sta mentendo quando è la telecamera? No no, fa più lavori di me.